Buongiorno a tutti, allora, è vero, con un qualche giorno d'anticipo perché è ancora il 6 di gennaio, quindi non ho ancora l'epifania, ma io sono golosone, quindi aprirò questa calza della Befana, regalatami da mia figlia, ed è della mia squadra, vedi questa qua, la calza della Befana del Toro. Però guardiamo cosa contiene all'interno queste calze, apriamo, sì lo so che si deve aprire la Befana, ma dai, ma non stiamo a guardare il pello nell'uovo, non stiamo a guardare il pello nell'uovo, apriamo. Sì, me l'ha regalata mia figlia, più grande, però dai, mettiamo che col pensiero me l'ho fatta anche l'altra mia figlia, più piccola, più piccola, ormai sono grandi tutti e due, grandicelle tutti e due. Allora, vediamo un po', vediamo la prima cosa che troviamo, e la prima cosa che troviamo è del cioccolato, chocolate, sempre tutto col marchio del Toro naturalmente, poi troviamo una sorpresa, vediamo cosa c'è, scartiamo, vediamo che sorpresa c'è. Eh, misera, quanto l'hanno... Non ho neanche le unghie, quello è bello. Non è che con i denti viene, oh. Ah sì, vedete, con le buone maniere si ottiene tutto. Vediamo cosa c'è, come regalo. Ci sono il domino, il domino del Toro, vedete, il domino del Toro, sempre quello suo. Poi vediamo cos'altro c'è, vediamo un po'. C'è un altro cioccolato, poi un altro cioccolato, sempre naturalmente con il sistema del Toro, poi cioccolato e cioccolato. E poi... Cioccolato, cioccolato e cioccolato, quindi tutto cioccolato. Guarda che bella calzetta. Io con questo vi saluto, vi mando un grosso abbraccio, ciao.